Questo cambiamento antropologico e culturale impone alla Chiesa naturalmente di affrontare alcune sfide pastorali, perché si deve confrontare con questa realtà. Dove, come intervenire? Ma penso che la pastorale comincia dalla predicazione. Il Papa ha scritto delle cose magnifiche su questo. E anche ho riletto Ecclesiam Suam, questi giorni, per la beatificazione di Polo VI. E lì dice anche che il fondamento è l'antropologia cristiana. Dobbiamo, e c'è una, volevo dire, c'è una pagina bellissima su il primato della predicazione. Predicazione vuol dire l'annuncio del Vangelo, della Bibbia. Dunque, il patrimonio biblico è lasciato da parte adesso. E si deve far vedere che anche per quelli che non hanno la fede, questo patrimonio biblico dice delle cose essenziali di che cosa è l'uomo. Perché assieme a questa grande libertà, c'è una disperazione su una ricerca dell'identità. L'uomo non sa chi è, c'è molta tristezza, c'è molti divorzi, non soltanto divorzi, ma i sussidi, per esempio, e i sussidi dei giovani. Io sono, come sa, la Svizzera dove si vive bene, dove il sistema politico è molto intelligente, funziona bene, non sono molte critiche da fare, ma la gioventù è in ricerca di senso. I casi di sussidi ci sono, hanno tutto ma hanno niente, perché non hanno il senso.